Regione Campania, stilla la variazione di bilancio, Caldoro, brutta figura della maggioranza. Sant'Arsenio, auto prende fuoco, probabile d'origine dolosa, intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Roscigno, proposta del vice sindaco Ruotolo, baratto amministrativo a sostegno dei contribuenti e del territorio. Sanza, otto artisti presentati da otto giornalisti, la novità del settimo premio nazionale Vito Curcio. Calcio, stagione 2015-2016, il punto sui campionati delle squadre valdianesi. Buonasera e ben ritrovati con le informazioni del nostro Tg. Iniziamo con la cronaca. Slitta la discussione in Consiglio regionale sulla variazione di bilancio finalizzata alla ricostruzione del Fondo per le disabilità. Caldoro parla di brutta figura per la maggioranza. Intanto la prima sezione del Tribunale civile di Napoli ha depositato le motivazioni della sendenza che ha accolto il ricorso dei regali di De Luca sul provvedimento di sospensione previsti dalla legge Severino. Si è svolto ieri il Consiglio regionale della Campania che tra i vari punti all'ordine del giorno prevedeva la discussione del disegno di legge dal titolo Seconda variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 finalizzato alla ricostruzione del Fondo per le disabilità. Tuttavia il Consiglio ha riviato la discussione su questo argomento. Una brutta figura per la maggioranza, così l'ha definita il capo dell'opposizione in Consiglio regionale, l'ex governatore Stefano Caldoro, che ha aggiunto Un cattivo avvio, superficialità e incapacità della maggioranza. Il provvedimento era ridicolo in riferimento alle risorse individuate e costruito male, senza il rispetto dei regolamenti e senza idee chiare sulla copertura. Un K.O. ha concluso Caldoro, figlio dell'approssimazione della superficialità. Intanto la prima sezione del Tribunale Civile di Napoli ha depositato le motivazioni della sentenza, che ha accolto il ricorso di De Luca avverso il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne aveva disposto la sospensione facendo scattare la legge Severino. Il provvedimento di sospensione, si legge nella sentenza, incide sul diritto soggettivo di elettorato passivo, atteso che questo non si esaurisce con la partecipazione alle elezioni, ma si estenda allo svolgimento delle funzioni per le quali si è stati eletti. Ritiene il collegio, si legge nella sentenza, che la sospensione di De Luca comporterebbe la lesione irreversibile del suo diritto soggettivo all'elettorato passivo, posto il limite temporale del mandato elettivo. L'applicazione della sospensione, nell'elevato dubbio di legittimità costituzionale delle norme, comprimendo l'esercizio dell'elettorato passivo e del libero svolgimento del mandato elettorale, comporterebbe un danno non reparabile né risarcibile. Nella notte a Sant'Arsenio, incendio di un'autovettura parcheggiata all'interno di una proprietà privata. Immediato è l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dai proprietari dell'abitazione. Si ipotizza l'origine dolosa. Caschi rossi in azione questa notte a Sant'Arsenio, dove un'auto ha preso fuoco. Una lancia delta diesel intorno alle ore 4 di questa notte prende improvvisamente fuoco. A rendersi conto di quanto stava accadendo, i proprietari di casa, allertati da alcuni rumori che provenivano dall'esterno. Il susseguirsi di tali rumori avrebbe spinto i residenti della casa ad affacciarsi ed hanno notato le fiamme provenire dall'auto. Immediatamente è allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che al comando del caposquadro esperto Luigi Morello in brevissimo tempo hanno raggiunto la casa, dove i proprietari tentavano, con i pochi mezzi a disposizione, di evitare che l'incendio potesse propagarsi. L'auto invece era completamente invasa dalle fiamme, rendendo particolarmente complicate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'intera zona. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, con i militari della stazione di Polla, che hanno effettuato i rilievi sul posto, individuando elementi che possono portare a dedurre all'origine dolosa dell'incendio. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'arma per individuare eventuali responsabili che, secondo alcune ipotesi, potrebbero aver scavalcato la recinzione e dato fuoco all'auto, anche se non vi sono elementi utili in grado di far comprendere il movente che ha spinto i possibili responsabili all'insano gesto. Un fatto che sconvolge l'intera comunità e che mette l'allarme soprattutto per ciò che riguarda i casi di microcriminalità sul territorio valdianese, in considerazione anche dei numerosi furti che si registrano su tutto il territorio. I caschi rossi del caposquadra Luigi Morello sono inoltre stati impegnati, sempre nella prima mattinata, sempre a Sant'Arsenio, nello spegnimento di un ruogo di rifiuti di piccole dimensioni. In questo caso, le fiamme molto probabilmente si sono appiccate a seguito di un incauto gesto. In ogni caso, l'incendio è stato domato con celerità e senza particolari danni. Un 43enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sapri per il reato di truffa. L'uomo ha raggirato un'anziana di Policastro e gli ha spillato circa 4.000 euro. La Compagnia dei Carabinieri di Sapri nell'ambito del potenziamento e pianificazione dei servizi estivi ha messo in atto una nuova tipologia di servizi volti a garantire una maggiore sicurezza specie nei confronti degli anziani spesso lasciati nel periodo estivo da soli a casa. La particolarità dei servizi ha consentito nella mattinata di ieri ai carabinieri della Compagnia di Sapri di trarre in arresto un 43enne napoletano responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di un'anziana signora di Policastro Bussentino. Il malfattore, dopo aver avvicinato un'anziana signora di Policastro ed essersi spacciato per liquidatore assicurativo con artifici e raggiri faceva credere alla vittima che doveva liquidare una grossa somma al figlio. Ovviamente, previo il pagamento anticipato delle spese legali di circa 3.900 euro nella circostanza veniva simulata una telefonata al figlio pertanto la donna consegnava la somma richiesta. Il denaro che veniva sequestrato è restituito poi alla legittima proprietaria. I militari operanti, nel corso dello specifico servizio di osservazione e controllo notavano lo sconosciuto truffatore unitamente all'anziana. Insospettiti dall'atteggiamento iniziava così la fase di pedinamento che si concludeva con l'arresto del malvivente. L'arrestato quindi poi veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del comando della compagnia dei carabinieri di Sapri in attesa del processo per direttissima. A Roscigno, il vice sindaco Bruno Ruotolo propone un'iniziativa approfittando della norma inserita nel decreto sblocca l'Italia per favorire la tutela del territorio e nel contempo il recupero delle imposte. Potrebbe presto essere attivato il baratto amministrativo. A Roscigno si parte con una nuova iniziativa che vede nella legge statale del 2014 una possibile soluzione alla pressione fiscale che attanaglia i cittadini e che nel contempo punta a favorire la partecipazione delle comunità locali per la tutela e la valorizzazione del territorio. Su proposta del vice sindaco di Roscigno Bruno Ruotolo sottoscritta dai consiglieri di maggioranza Angela Sacco, Gino Alessandro e Rocco Mazzei sarà presto posta in discussione l'ipotesi di mettere in piedi l'iter per approfittare della norma inserita nel decreto sblocca Italia in materia proprio di misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio e denominato baratto amministrativo. Ai cittadini che per difficoltà economiche non possono provvedere a regolare il pagamento delle tasse il Comune, qualora approvato potrà decidere di offrire agli stessi la possibilità di occuparsi di lavori finalizzati ad un miglioramento dell'aspetto del territorio comunale dalla cura del verde al recupero di aree degradate passando dalla sistemazione degli edifici pubblici sino alle strade vie interpedonali, valloni, torrenti e aree comunali tenuti nell'incuria e nel perenne rischio di esondazioni e frane la misura è prevista dallo sblocca Italia i lavori compenseranno le tasse comunali arretrate e quelle future il documento prende ispirazione dalle difficoltà che sempre più cittadini incontrano nel far fronte al pagamento dei tributi comunali e dalle ingenti somme e vase di cui il Comune di Roscigno è creditore a titolo di imposte e tasse locali un'iniziativa prevista e regolamentata dalla legge 164 del 2014 che introduce così la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e beni immobili inutilizzati e in genere comunque la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano il vice sindaco di Roscigno, Bruno Ruotolo punta sull'iniziativa considerandolo un progetto di particolare interesse che peraltro assume una duplice finalità infatti oltre a consentire una maggiore attenzione per il territorio comunale con tutta una serie di attività che possono contribuire notevolmente a migliorare l'immagine e a sensibilizzare la cittadinanza verso una maggiore cura aiuta nel contempo anche i cittadini che oggi più che mai si trovano a dover fare sempre più i conti con un mare di imposte e difficoltà economiche che impedisce spesso il regolare pagamento dei tributi Si è svolta l'Assemblea della Società di Gestione dell'Aeroporto di Ponte Cagnano Nel corso dell'Assemblea sono due i punti di particolare interesse trattati che hanno visto l'approvazione del cambio di denominazione da Aeroporto Costa ad Amalfi ad Aeroporto Costa ad Amalfi e Cilento approvata anche la ricapitolizzazione Diventa Aeroporto Costa ad Amalfi e del Cilento lo scalo salernitano per il quale ieri l'Assemblea della Società di Gestione ha approvato la ricapitalizzazione ed il cambio di denominazione L'aumento di capitale che è stato portato a poco più di un milione di euro rappresenta una boccata d'ossigeno per i dipendenti e consente di continuare le attività dello scalo salernitano che adesso attende i 40 milioni di euro stanziati dal decreto Salva Italia Sono queste le decisioni più importanti prese durante la riunione che si è svolta ieri presso la sede della Camera di Commercio alla quale, oltre ai vertici dell'aeroporto ha partecipato pure la Regione Campania A rappresentare l'ente il consigliere regionale Luca Cascone assessore alla mobilità del Comune di Salerno che si è però astenuto dalla votazione su tutti i punti all'ordine del giorno è stato lo stesso Cascone a spiegare che il suo silenzio è legato ad una delibera regionale che stabilisce la fuoriuscita della Regione dalla compagine consortile già dallo scorso 31 maggio e la votazione della Regione è vietata dallo Statuto il primo passo quindi sarà variare questo provvedimento in modo che la Regione possa dire la sua sullo sviluppo dello scalo salernitano ad assicurare il prima possibile la presentazione di un dettagliato piano al Governatore De Luca per ricevere indicazioni su ciò che ancora c'è da fare è stato anche il Presidente del Consorzio Antonio Ilardi presente ai lavori dell'Assemblea la manovra di contenimento delle spese interne sta producendo limitazioni nelle perdite e l'iter per accedere ai fondi dello sblocco Italia è in pieno svolgimento ha fatto notare Ilardi l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha da poco chiesto ai vertici della Società di Gestione dell'Aeroporto ulteriori documenti per completare le pratiche necessarie ad ottenere tutte le autorizzazioni per andare avanti Mariano Lazzarini Presidente del Consorzio ha infine valorizzato il ruolo avuto dalle istituzioni del territorio che si sono dimostrate di nuovo presenti chiaro il riferimento alla recente decisione della Camera di Commercio di versare altri 300.000 euro nelle casse dello scalo I gruppi consigliari di minoranza di Caggiano il sole e incontro, dialogo e partecipazione con un manifesto affisso in paese hanno chiesto informazione alla maggioranza e al sindaco sulla reale situazione relativa ai lavori che interessano Piazza Lago In Piazza Lago solo un mare di incertezze e questo è il titolo del manifesto comparso ieri a Caggiano a firma dei due gruppi di minoranza consigliare il sole e incontro, dialogo e partecipazione con il quale chiedono al primo cittadino Giovanni Caggiano e tutta la maggioranza novità in merito all'attuale stato dei lavori in Piazza Lago lavori che godono di un finanziamento regionale e che devono essere completati entro il 31 dicembre 2015 i gruppi consigliari dopo aver rimarcato i colpevoli ritardi dell'amministrazione nell'avviare le procedure per l'avvio dei lavori che potevano essere avviati con sei mesi d'anticipo se le distinte procedure di gara fossero state portate a compimento e dopo aver sottolineato che nel corso di questo assolato mese di luglio di soldi per il finanziamento non se ne è vista l'ombra comeppure non risulta emanato alcun decreto regionale di concessione dell'anticipazione evidenziano come i lavori in Piazza Lago sono stati interrotti per due settimane in quanto la ditta esecutrice ha abbandonato il cantiere sulla motivazione di tale decisione recita il manifesto è calato un imbarazzante e incespicante silenzio in conclusione si legge sul manifesto di fronte a cotanto mistero le opposizioni politiche non possono che rivolgere alcune impellenti domande al sindaco e alla sua maggioranza ben 10 quesiti che le minoranze propongono tutte con l'obiettivo di capire quando la piazza sarà riconsegnata alla gente i motivi del ritardo nell'esecuzione dei lavori e se e quando la regione metterà i decreti di concessione dell'anticipo per i lavori infine conclude il manifesto è doveroso ricordare che il termine finale per l'ammissibilità della spesa è il 31 dicembre 2015 questo significa che per poter introitare il saldo del contributo regionale occorre terminare e collaudare l'opera ben prima ma del 31 dicembre e concludere i pagamenti entro la fine dell'anno cosicché nel caso qualcosa vado storto conclude la nota con possibili danni e contenziosi a carico del comune delle tasche dei cittadini i caggianesi tutti sapranno certamente a chi rivolgersi a questo punto si attende la risposta del primo cittadino della maggioranza chiamata pubblicamente in causa dalle minoranze il sindaco di Montesano sulla Marcellana Donato Fiore Volentini in una nota lamenta l'inefficienza della Ergon e annuncia la sospensione dei pagamenti dovuti il primo cittadino in una lettera indirizzata al responsabile area direzione del servizio igiene urbana a Biagio Cafaro al commissario liquidatore della Ergon Pasquale Capozzoli e al commissario del consorzio di Bacino Salerno 3 Vittorio Esposito esprime il suo disappunto per il disservizio che si sta registrando nel comune di Montesano in merito alla raccolta rifiuti l'intollerabile l'intollerabile protarsi del disservizio di raccolta RSU aggravato dalle particolari condizioni meteo che peraltro mette a rischio anche la salute dei cittadini mi impongono di segnalare l'assoluta inefficienza del cantiere Ergon del comune di Montesano che ormai non garantisce neanche l'ordinario di conseguenza con la presente reitero quanto già segnalato ripetutamente ai destinatari della presente affinché ciascuno nell'ambito delle proprie competenze adotti dovuti provvedimenti che possano garantire l'espletamento del servizio per il quale questo comune paga e ringrazia in mancanza ove ad oras non si rientri nella normalità questo comune sospenderà ogni pagamento richiederà il puntuale risarcimento dei danni prodotti attivandosi autonomamente per l'erogazione emergenziale del servizio con l'associazione si chiede ufficialmente alla Ergon e al consorzio l'uscita dalla gestione associata in quanto ormai non sussistono i presupposti minimi per la normale erogazione di un servizio così delicato il segretario generale della Filmcams CGL Salerno Tonino Greco ha annunciato novità entro fine luglio per gli 11 dipendenti dell'area di servizio di Sala Consilina direzione sulla A3 Salerno Reggio Calabria che da due mesi sono senza lavoro ancora poche novità sul futuro degli 11 dipendenti dell'area di servizio di Sala Consilina Ovest sulla A3 Salerno Reggio Calabria in direzione sud che da due mesi sono senza lavoro e in presidio permanente presso l'area di servizio due i problemi da una parte i dipendenti che da gennaio non percepiscono stipendio e che ora sono disoccupati e dall'altra automobilisti e utenti dell'autostrada che trovano chiuso un'area di servizio in una posizione strategica per la Salerno Reggio Calabria Torino Greco segretario generale della Filcams CGL Salerno ai microfoni di Radio Alfa ha annunciato una svolta positiva entro fine luglio quando è prevista la chiusura della trattativa tra Eni proprietaria dell'area e il nuovo gestore che dovrà rilevare attività e dipendenti certo è un'avvertenza diciamo così complicata perché gli attori in campo sono tanti c'è l'Eni c'è il vecchio gestore c'è il gestore che dovrebbe subentrare chiaramente in queste ore c'è una trattativa in corso sia con Eni sia con il gestore che dovrebbe subentrare e con il gestore precedente chiaramente è stata chiusa la partita perché ha licenziato tutti i lavoratori cambiando anche la procedura diciamo adottando la procedura di legge la 223 che il vecchio gestore Tarsia Petroli l'ha aperta dopo che noi abbiamo contestato l'illegittimità dei licenziamenti fatti precedenti individuali senza adottare una procedura chiaramente questo tipo di procedura la procedura che doveva applicare in principio per legge agevola diciamo così la trattativa perché i lavoratori stanno tutti praticamente in procedura di mobilità ciò significa che il nuovo gestore con l'assunzione di questo personale agli giravi fiscali che potrebbe di fatto compensare le perdite che ci stanno diciamo così sul distributore siamo già in fase di trattativa diciamo così avanzata perché a nostro modo di vedere i lavoratori devono essere tutti e 11 assunti e devono praticamente rientrare nei parametri contrattuali che avevano prima cioè le 40 ore settimanali oltre al livello di inquadramento diciamo che il primo approccio che col gestore nuovo c'è stato circa un mese fa non c'erano le condizioni diciamo così ad oggi per le richieste che noi avevamo fatto secondo loro però man mano è andata avanti la trattativa abbiamo fatto capire alcune cose al nuovo gestore pertanto la trattativa si è incamminata in senso positivo io credo che diciamo nel giro di pochi giorni se ne sapranno di più anche perché il nostro obiettivo è quello di non solo di ridare il lavoro ai lavoratori che attualmente l'hanno perso ma ne allo stesso tempo di dare un servizio alla collettività solamente in un periodo estivo controlli presso le strutture ricettive italiane riscontrati solo il 14% di illeciti il bilancio delle operazioni vacanze pulite del corpo forestale ha condotto a quattro sequestri penali primo sequestro amministrativo ed è stata anche disposta la chiusura di un'intera struttura ricettiva controlli su tutto il territorio nazionale presso agriturismi e campeggi sono stati effettuati dal corpo forestale dello Stato nell'ambito dell'operazione vacanze pulite l'obiettivo è verificare che le immissioni di acqua nelle strutture ricettive avvenga a seguito di una corretta depurazione nel complesso i controlli hanno interessato 834 strutture ricettive 919 persone e 15 veicoli rispetto ai controlli effettuati sono stati riscontrati poco meno del 14% di illeciti sono stati inoltre effettuati quattro sequestri penali un sequestro amministrativo ed è stata disposta la chiusura di un'intera struttura ricettiva le sanzioni amministrative più frequenti circa il 90% sono state combinate per violazioni alle procedure inerenti le autorizzazioni agli scarichi di acque domestiche o ad esse assimilate per quanto concerne invece la violazione di natura penale il 57% delle notizie di reato sono state redatte per violazioni riguardanti la gestione dei rifiuti il 23% per violazioni in materia urbanistica o violazioni al vincolo paesaggistico il circa il 10% per violazioni penali nei confronti di normativa sulla tutela delle risorse idriche e il 5% circa per reati riguardanti la normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari Nel giro di 24 ore è riaperta al transito la strada provinciale 72A la principale via di collegamento tra Monte San Giacomo e i comuni del Vallo di Viano fondamentale per liberare la strada dai massi gattuti nei giorni scorsi l'intervento congiunto di comuni comunità montana e provincia di Salerno adesso seguirà una breve pausa pubblicitaria tra poco con il resto delle nostre notizie ben ritrovati con la seconda parte delle nostre notizie ci spostiamo ora a Sanza sono otto i finalisti della settima edizione del premio nazionale Vito Curcio alle voci nuove della musica italiana promosso dall'associazione Amici Roo Cavaliere e dalla BCC di Buon Abitacolo il concorso in programma domenica 2 agosto alle 21 a Sanza sarà arricchito da una novità per questa edizione 2015 pochi giorni ancora per la settima edizione del premio nazionale Vito Curcio alle voci nuove della musica italiana in programma come ogni anno a Sanza il 2 agosto appuntamento fisso dell'estate che vede i giovani talenti del territorio esibirsi con la canzone e mostrare ad un folto pubblico la passione e l'impegno che mettono nel cercare di realizzare i propri sogni nuova formula quest'anno per lo spettacolo che si terrà in piazza 24 maggio a Sanza con gli otto partecipanti al concorso Canoro che saranno presentati da altrettanti giornalisti sul palco saliranno voci nuove provenienti dalle regioni Campania Basilicata e Puglia finalisti di questa edizione 2015 del premio dedicato ad un grande appassionato della musica e che ha sempre messo al primo posto la valorizzazione dei giovani e del loro talento alle ore 21 di domenica 2 agosto torna quindi l'appuntamento su cui sta appuntando e investendo l'associazione Amici Ru Cavaliere nata all'indomani della prematura scomparsa dell'amico Vito Curcio insieme all'importante supporto della BCC di Buonabitacole con la preziosa collaborazione di Radio Alfa gli otto finalisti selezionati dalla direzione artistica del premio affidata anche quest'anno al giornalista Lorenzo Peluso sono Davide Sarno Luca Laveglia Edrien Sharon Langone Rocco De Paola Gianfranco Cloraglio Saverio San Giacomo e il coro polifolico Polimnia ad accompagnare gli artisti in gara nelle serata finale di questa settima edizione del premio nazionale Vito Curcio alle voci nuove della musica italiana otto giornalisti Maria Angela Petruzzelli consulente autrice televisiva per la RAI Tony Pasquale giornalista e speaker di Radio ICN New York Pier Paolo Fasano giornalista e direttore di produzione di Radio Alfa Daniele Volpecina giornalista di Il Mattino Antonella Adalto giornalista di Radio Alfa Anna Cava giornalista di Uno TV Pierluigi Paciello giornalista di Cosmos TV e la giornalista del quotidiano La Città Maria Teresa Conte Gli otto giornalisti saranno chiamate di affiancare gli artisti finalisti in un inedito duetto fatto di musica e informazione Madrina e presentatrice dell'evento sarà la giornalista Maria Giovanna Bruno Anche quest'anno partner dell'evento è la manifestazione Canora Basilicanta concorso canoro regionale della Basilicata con la presenza del direttore artistico Danilo Logiodice La serata del 2 agosto si concluderà come da tradizione con un concerto rock la band selezionata per questa settima edizione è la Pop Tarts U2 Tribute Band per noi un impegno consolidato nel promuovere questa manifestazione musicale che negli anni è cresciuta ed ha fornito l'opportunità a tanti giovani talenti di farsi conoscere e arrivare fino al prestigioso palcoscenico di Sanremo ha affermato il direttore della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca crediamo che con la cultura con la musica si contribuisca concretamente alla crescita dei nostri territori e dunque seguiamo con attenzione la crescita e l'evoluzione del premio nazionale Vito Curcio nel ricordo del caro Vito amico personale ma soprattutto amico della comunità di Sanza ha concluso il direttore De Luca Expo 2015 merita di essere visitata per la sua caratteristica di salone universale che accoglie al suo interno abitudini alimentari e culturali di tutti i paesi del mondo in un'ottica di ampliamento della visione di globalità che può portare anche ad una maggiore consapevolezza delle proprie tradizioni e della propria cultura come parte integrante di un universo ricco e variegato questo è l'obiettivo principale che ha spinto la Banca Montepruno e il Circolo Banca Montepruno ad organizzare un viaggio a Milano dal 28 al 31 agosto Visitare il Salone Universale dell'Alimentazione di Expo 2015 a Milano è un'opportunità imperdibile i padiglioni e la possibilità di prendere contatto in un unico grande complesso di tutte le proposte alimentari del mondo possono immergere chi lo visita nel vero senso di globalità e di appartenenza ad un solo pianeta ecco perché la Banca Montepruno insieme al Circolo Banca Montepruno propongono un'iniziativa che si può tranquillamente affermare vada considerata come una proposta culturale e di socializzazione dal 28 al 31 agosto è previsto un viaggio a Milano per visitare la Mostra Universale di Expo 2015 l'iniziativa organizzata a favore dei soci della Banca e del Circolo propone un programma ricco che consentirà anche di visitare la stessa Milano ed in particolare i navigli canali irrigui e navigabili utilizzati in passato per i collegamenti con l'Europa nei quattro giorni di permanenza due saranno dedicati esclusivamente a visitare l'Expo e i suoi immensi e suggestivi padiglioni nel dettaglio il viaggio sarà così articolato venerdì 28 agosto partenza intorno alle ore 9 dalla stazione di Salerno a bordo del treno Frecciarossa direzione Milano giunti nel capoluogo Lombardo il gruppo nel pomeriggio si dedicherà alla visita della città i due giorni successivi di sabato 29 e domenica 31 saranno interamente dedicati all'esposizione del Salone Universale dell'Alimentazione dove sarà possibile confrontarsi e confrontare le abitudini e i sapori italiani con le abitudini dei diversi paesi del mondo culture e tradizioni alimentari che si mescolano e che attraverso la visita di Expo 2015 apriranno anche a nuovi orizzonti facilitando la comprensione e il vero senso di universalità di cui oggi se ne sente la necessità anche per un miglioramento del senso di appartenenza di ciascuno di noi lunedì 31 ultimo giorno del viaggio dopo una nuova escursione della città di Milano si ritornerà nel Vallo di Diano la quota include il viaggio in autobus dal Vallo di Diano per Salerno andato e ritorno viaggio in treno da Salerno per Milano andato e ritorno trasferimento dalla stazione all'hotel andato e ritorno e ancora tre notti in hotel a quattro stelle centrale con la prima colazione compresa cena dal primo giorno pranzo del quarto giorno trasferimento dall'hotel all'expo e biglietto di ingresso al Salone Universale incluso inoltre anche i due siti tour in autobus con guida sono compresi nel prezzo chi è interessato a partecipare può rivolgersi ed effettuare la prenotazione direttamente alla segreteria della banca Montepruno 80 sono i posti disponibili in caso di maggiori adesioni l'istituto di credito valuterà l'eventuale organizzazione di un successivo viaggio cosa faranno le squadre di calcio del Vallo di Diano tra riconferme e addio il punto del prossimo servizio con la riunione tenutasi ad inizio settimana a Salerno e che ha visto la partecipazione di molte società di calcio della provincia di Salerno è iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2015-2016 tante novità e soprattutto con il Vallo di Diano che almeno per quanto concerne le squadre di prima e seconda categoria potrebbe annoverare diverse defezioni partiamo da Polla dalla squadra dei presidenti Criscolo Curcio ancora si sa poco le ultime novità parlano di possibili smobilitazioni del gruppo che in due anni ha conquistato la promozione in prima categoria ai playoff e non più tardi di un mese e mezzo fa ha perso la finale playoff per il salto in promozione una smobilitazione che però contrasta con la presenza del direttore Vocche e addirittura del sindaco Giuliano in quella di Salerno a colloquio nella hall del Grand Hotel con il numero uno del calcio campano Vincenzo Pastore potrebbe anche essere una mossa in sordina per non svelare nulla e annunciare la vera novità l'iscrizione al campionato di promozione nei prossimi giorni giovedì 30 luglio è il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione o riposcaggio nel secondo campionato regionale chi sarà in campo nel prossimo campionato di promozione è il sassano del presidente Ricciardone che dopo vari cambi nell'ultimo mese sarà tranquillamente ai nastri di partenza in prima categoria con il montesano di Giovanni Monaco che come annunciato al termine della scorsa stagione sportiva non parteciperà al campionato anche se non è da escludere un ripensamento last minute sicuramente ai nastri di partenza del terzo campionato regionale ci sarà il Certosa di Padula come annunciato nei giorni scorsi dalla direttore Anania su Facebook l'ASD Certosa di Padula comunica che per la stagione sportiva 2015-2016 parteciperà per merito al campionato di prima categoria e inoltre parteciperà anche al campionato under 18 in seconda categoria invece dovrebbe esserci la defezione dello Sporting Sala Consilina i lavori che interesseranno l'impianto sportivo Svaldo Rossi dovrebbero condizionare anche la programmazione della società pronta ad un anno di stop prima di riprendere si tratta di una notizia che circola da diverso tempo ma ancora non è ufficiale sicuramente Sant'Arsenio Atena Lucana e qualche altra compagine non farà mancare la propria partecipazione ma attualmente siamo ancora nel campo delle ipotesi Questa era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito auguro a tutti una buona serata grazie a tutti